Che bello, è finita la scuola! Domani dormo tutta la mattina! No, domani mattina vengono a prenderti alle 6 e vai ai campi della parrocchia! Ah, vabbè! Allora il giorno dopo dormo tutta la mattina! No, no, perché subito dopo parti per la colonia! E poi anche il corso di caccetto, il corso di equitazione e quello di nautica! E io a casa quando ci sto? Mai! Cacca!